Un saluto dall'ETG. Della mobilità per le spiagge di Ostia e Torvajanica ci sono le linee di bus mare 07 e 062. Nei fine settimana si aggiunge anche la 068. Queste tre linee collegano la ferrovia Romalido con la litoranea. Orari e percorsi in dettaglio sono su romamobilita.it. Per quel che riguarda Trenitalia, il sabato e la domenica ci sono più corse sui treni per il mare, ovvero le ferrovie Roma Civitavecchia, Roma Formi e Roma Nettuno.